Via! Ultimi dieci minuti circa della partita. Vi dico solo un nome. Icone. Un giocatore così inutile non ci può essere. Fiorentina con Gosens. Adli. Adli. Bellissimo. Attenzione. Atalanta riprende il pallone. Icone è inutile. Inutile. Riparte l'Atalanta. Pallonata in avanti dell'Atalanta. Pongracic. Biraghi in avanti. Ancora la palla all'Atalanta. Ottantacinquesimo. Zappacosta per l'Atalanta in avanti. Lukman. Adli. Richardson. Palla in avanti. Attenzione. Sottil. Attenzione. C'è Sottil. Sottil. Pallonata in avanti dell'Atalanta. Ora la Fiorentina spinge. Dodo. Dodo. Dai forza Viola. Dodo ci prova. Bellissima. Eccola. No. No. Abbiamo. Abbiamo una difesa. Una difesa penosa. Siamo sempre alle solite. Siamo. Sempre alle solite. Sempre alle solite ragazzi. Dovevamo fare. Dovevamo puntare anche su un buon difensore. Ma niente da fare. Niente da fare. L'Atalanta. Sì. Forte. Ma. La Fiorentina se la può giocare con tutti. Ottantasettesimo. Biraghi. Che stai a chiacchierare ora. Maremma. Maiala. Accidenta a te. Cazzarola. Gosens. Pallo per la Fiorentina. Siamo all'ottantasettesimo ragazzi. L'Atalanta in avanti. Attenzione. Palla verso nessuno. Ma c'è Dodo. Icones è inutile. Madonna. Fai qualcosa. Una cosa sola devi fare. Una. Ha toccato quattro palloni. Quattro palloni. Ha buttato via. Non mollare. Perché. Sottile. Fresco. Sottile. Fresco. Bella. No. Non voglio. Non voglio credere a quello che ho visto. Non voglio credere a quello che ho visto. Come faccio a sottile. Ma guarda. Ottantottesimo. Atalanta in battaggio. Per 3 a 2. No. Non voglio. siamo quasi all'ottantanovesimo corentina ci prova ancora ma c'è icone ma c'è icone c'è con è in campo ragazzi è anche normale che succedano queste cose perché in campo c'è icone da tutto nella normalità che tutto questo succeda solo quattro minuti di recupero e sicché ora rimane solamente quattro minuti e mezzo per vedere di di recuperare questa partita attenzione spalla icone cuori gioco mandata a fanculo gli stronzi che siete iniziato ora il novantesimo ora l'atalanta perderà tutto il tempo possibile giustamente dovrà parlare avanti l'atalanta recupera richardson ci prova però ederson la vince brescianini in due la fiorentina fallo della per l'atalanta su brescianini ma dai birachi ma sta zitto ma sei un brocco come con è sei un brocco come con è fai cacare ederson l'atalanta in avanti novantunesimo zappa costa dodò cerca di fermarlo ma non ce la fa palla ripresa molto bene no fallo fallo da posizione fallo da posizione interessante per l'atalanta palla non c'era fallo non c'era siamo al novantadusesimo e ora l'atalanta l'atalanta sta lì giustamente che deve fare dodo l'atalanta ancora richardson adli kin che è il migliore canna il migliore in campo che hanno il migliore in campo questo il divano perché il divano è così? eh? perché il divano è così? tutto sminchiato c'era la bambina dopo lo provo perché gli attacci sono così? questo Ale che le mutande ti stanno dentro alle nonze? si stanno bene si scendi fatti vedere dai 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 ultimo minuto guarda dai porca puttana dai dai che schifo andiamo 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 ma muoio più va bene vallano avanti carne secca vaffanculo porca puttana del leva maiala sudicia voglio vedere dai vaffanculo a tutti voi e chi va a cacato 55 uguale dai dai basta esci cosa fai? c'è pazza non c'è no l'acqua non viene a pulire prendete il bicchiere ok ma mettiamo fuori là sopra c'è 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 finita ciao